Qualche giorno fa alla Mezzia c'è stato un decesso per un caso di malattia infettiva, di una malattia definita H1N1. Un altro caso è in osservazione, questo ha creato una serie di allarmi, chiaramente i vertici sanitari si sono prodigati a tranquillizzare i cittadini rispetto alla capacità dell'ospedale di gestire emergenze del genere, però c'è da dire una cosa che non si può omettere, l'ospedale della Mezzia Terme non ha più un reparto di malattie infettive. In tal senso il commissario Scura e il direttore generale del sanitario hanno teso a rassicurare, nel senso che questa cosa si sarebbe risolta, ma al di là delle parole, come al solito, né Scura né nessun altro è riuscito ad andare oltre. è un grande ospedale come quello della Mezzia Terme con una sua storia, ma anche un grande bacino. Voi immaginate che la Mezzia Terme è la terza città della Calabria per numero di abitanti, è in qualche modo la capitale della costa terrenica chetanzarese, e quindi durante l'estate non ci sono soltanto i 150 mila abitanti del comprensorio Lamettino, ma ci sono anche i turisti della costa e nonostante ciò questo ospedale di un grande territorio non ha più un reparto di malattie infettive. A noi rimangono gli allarmi, le preoccupazioni legate a decessi come quelli che ci sono stati, e ci rimangono le chiacchiere del commissario Scura, della politica. Ecco, insomma, con tutta la logica dell'economia e del risparmio possibile, ma c'è da credere che solo dei folli possono immaginare, ipotizzare che un grande bacino e una grande città della Calabria come la Mezzia Terme abbia un ospedale dove manca un reparto di malattie infettive. Certo, i cittadini non si devono allarmare, non bisogna produrre allarmi sociali perché il sistema sanitario è in grado di gestire tutte le emergenze, sarà certamente così. Noi crediamo che si debbano allarmare piuttosto della mediocrità di certi manager, di certi dirigenti del sistema sanitario calabrese e anche perché no? debbono allarmarsi per la incapacità di una certa politica.